Salve, sono il palo della Sani Moreno, lo Svage Audi di Fucettio, oggi vi presento una nuova arrivata del nostro pacco Vetture Usate, si tratta di questa Lancia Y ed è un 1.2 cilindrata a benzina dell'anno 2014, allestimento come potete vedere così chiamato L, con questo colore melanzana metallizzato, ripeto dell'anno 2014, attenzione, è una cosa importante anche, è una vettura che può essere guidata dai ragazzi e le ragazze neopatentate, andiamo adesso a vedere la carrozzeria esterna, come vi dicevo di questo bel colore melanzana metallizzato, bella, non c'è un graffio sulla carrozzeria, ammaccature niente, piccolissime cose da macchina usata ma la macchina veramente esternamente è ripeto veramente splendente, molto molto bella e adesso tocca agli accessori, anteriormente troviamo i fori fendinebbia, cerchi in lega da 16 pollici con gomme sempre estive e sempre tutti da sfruttare, sensori di parcheggio posteriori, anche due particolari esterni da far notare, la griglia cromata anteriore molto molto bella e lucida, fari anteriori brillantissimi, scrittina identificativa dell'allestimento della nostra Y, cerchi in tinta come la verniciatura della carrozzeria. E adesso siamo all'interno della nostra vettura, andiamo a vedere cosa abbiamo, intanto andiamo a vedere i pannelli delle porte, molto belli, puliti, non sono assolutamente scollati perché certe volte troviamo delle macchine con i pannelli scollati, interno carrozzeria misto pelle tessuto, leva del cambio, a cinque marce, mentre sulla console centrale troviamo il suo climatizzatore automatico, infatti posso modificare come potete vedere la temperatura, sopra abbiamo l'autoradio con il cd, nel cruscottino centrale troviamo i nostri contachilometri e segnalatori vari e anche il cruscotto anteriore molto bello da vedere con queste rifiniture in pelle, le plastiche sono bellissime, lucide e quindi ripeto molto bello da vedere e andiamo anche a vedere il nostro chilometraggio, 130.800 km tappezzeria interna, come potete vedere misto pelle tessuto, la pelle anche questa è in tinta con il colore della carrozzeria quindi è tutto un abbinamento, si presenta in un modo veramente molto bello, non ci sono strappi, non ci sono usure sul tessuto, non ci sono molto importante, buchi di sigarette perché il precedente proprietario non fumava quindi l'interno è pulito e profumato, profumato anche perché come il nostro solito le tappezzerie interne le facciamo lavare e igienizzare a vapore con questa lavorazione specifica. Infatti l'interno della nostra auto risulta molto molto accogliente, pulito e profumato, bagagliaio ampio con i suoi sedili sdoppiati quindi possiamo aumentare il volume della nostra bauliera, pulito perché ha avuto la stessa lavorazione della tappezzeria anteriore quindi lavato e igienizzato a vapore. Sotto il nostro pianalino troviamo il ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura. Il vano motore, anche questo bello da vedere, pulito, con tutti i suoi componenti al loro posto, plastiche, spinette elettriche, tutto al loro posto perché le nostre vetture usate prima di essere messe in vendita vengano sottoposte ad un accurato controllo presso il nostro service come seguendo una nostra checklist multicontrollo interna e sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente affinché la vettura sia completamente funzionante e quindi quanto più affidabile. Dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia come prescrive la legge con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Possibilità di pagamenti dateali personalizzati che vi saranno spiegati in sede nel caso ce ne fosse il bisogno. E adesso salite in macchina e andiamo anche a fare un giro di prova su strada e adesso siamo ancora all'interno della nostra vettura. A cosa serve il giro di prova? Serve a capire il funzionamento generale della nostra auto. Intanto, ripeto, auto che può essere guidata dai ragazzi e ragazze neopatentate. Ottima accoglienza all'interno della nostra auto e andiamo a vedere i particolari. A capire. Pedale della frizione in primis. Morbido, ottimo lo stacco, quindi ha veramente anche un ottimo funzionamento. E anche il cambio è molto preciso, non ci sono giochi. Preciso negli innesti, mentre l'assetto stradale, come potete vedere, anche questo è ottimo. Volante dritto, vettura va dritta su strada, non ci sono vibrazioni sulle ruote, scatola di guida leggera senza nessun gioco, quindi guidabilità generale molto buona. Andiamo a capire anche le sospensioni nella classica strada con le buche. Ebbene, sentiamo sì il loro lavoro, ma all'interno vettura risulta sempre silenzioso, quindi non ci sono vibrazioni anomale. La vettura è già stata controllata in ogni suo particolare, completamente funzionante, quindi è pronta per essere acquistata e naturalmente guidata. Se poi abitate lontano dal nostro punto vendita e quindi in un primo momento impossibilità di avvenire, ve la possiamo comunque presentare in anteprima, in diretta, come? Con una videochiamata con Whatsapp. Vi possiamo far vedere tutti i particolari pregi e naturalmente difetti. Così, se deciderete di venire, personalmente la vettura la conoscete già. Basterà comunque, provarla su strada, che è molto importante. Motore, classico 1.2 4 cilindri Fiat, economico nei consumi, lavori, affidabile e silenzioso. La vettura si guida molto bene anche nel centro urbano, bellina e scattante. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni. A questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi su Facebook, Instagram, al nostro indirizzo sani. Un grazie per l'attenzione. Vi aspettiamo naturalmente presso il nostro punto vendita oppure telefonate ai nostri numeri. Vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie ancora e come diciamo sempre, alla prossima vettura!